Burloni, buon 2021 a tutti! Da cinque anni a questa parte faccio questo video e anche quest'anno non potevo mancare nonostante tutto quello che è successo. Fatemi sapere come l'avete passato o come lo state passando, cosa farete il primo dell'anno e quali buoni propositi avete per il 2021. Schietemi sotto nei commenti, ho il buon proposito di perdere peso. Io vi farò un piccolo video su questa cosa perché sarà molto interessante. Noi ci vediamo fra poco in realtà perché ormai è già l'uno con tanti nuovi video. Ciao a tutti ragazzi, da Marcio è tutto, ciao ciao! Buon anno, buon anno, ciao!